stava parlando il mio amico mel mccin mel mccin cardiologo e ciò gli dà talvolta questo diritto eravamo tutti e quattro nella sua cucina seduti attorno alla tavola bere gin la luce del sole inondava la stanza dalle grandi finestre dietro il lavandino eravamo mel io la sua seconda moglie teresa terry per noi e mia moglie laura abitavamo allora dal bunker ma venivamo tutti da altre parti sulla tavola c'era un secchiello del ghiaccio il gin e l'acqua tonica continuavano a girare e non so come ci siamo messi a parlare d'amore mel pensava che il vero amore fosse soltanto l'amore spirituale disse che era stato cinque anni in seminario prima di smettere per passare a medicina disse che ripensava quegli anni in seminario come agli anni più importanti della sua vita terry disse che l'uomo con cui era vissuta prima di vivere con mel l'amava al punto che aveva tentato di ucciderla poi terry disse una sera mi ha picchiata mi ha trascinata per le caviglie intorno alla stanza non smetteva di dirmi ti amo ti amo troia e intanto mi trascinava per il soggiorno sbattevo la testa dappertutto terry diede un'occhiata intorno alla tavola cosa si fa con un amore così era una donna pelle e ossa con una faccia graziosa occhi scuri e capelli castani che le scendevano sulla schiena le piacevano le collane di turchese e i lunghi orecchini pendenti non essere sciocca mio dio quello non è amore e tu lo sai disse mel non so come chiamarlo ma certo non si può chiamare amore di quello che ti pare ma io so che era amore disse terry potrà sembrare assurdo a te ma non cambia le cose non siamo tutti uguali mel certo qualche volta si sarà comportato come un pazzo va bene ma mi amava a modo suo forse ma mi amava quello non era amore mel non dire che non lo era mel emmise un sospiro col bicchiere in mano si girò verso laura e me quell'uomo ha minacciato di uccidermi disse mel finì il suo gin e allungò la mano per prendere la bottiglia terry è una romantica terry è della scuola dammi un calcio e saprò che mi ami terry tesoro non fare quella faccia mel allungò la mano attraverso la tavola e le sfiorò la guancia con le dita le fece un sorriso ora vuole aggiustarla disse terry aggiustare cosa disse mel cosa c'è da aggiustare so di cosa sto parlando ecco ma come che ci siamo imbarcati in questo argomento disse terry alzò il bicchiere beve un sorso mel pensa sempre all'amore disse non è vero tesoro sorrise e con questo pensavo che l'argomento fosse chiuso è solo che io non chiamerei amore il comportamento di ed tutto qui quello che volevo dire tesoro disse mel e voi ragazzi disse a me laura a voi vi sembra amore lo chiedo alla persona sbagliata dissi io non lo conoscevo nemmeno l'ho solo sentito nominare di sfuggita non saprei bisognerebbe conoscere i particolari ma forse quello che stai dicendo tu è che l'amore è qualcosa di assoluto il genere di amore che dico io lo è disse mel il genere di amore che dico io non cerca di ammazzare la gente laura disse io non so niente di ed e nemmeno della situazione ma chi può giudicare la situazione di un altro sfiorai il dorso della mano a laura e lei mi fece un rapido sorriso le presi la mano era calda le unghie smaltate perfettamente curate le circondai con le dita al polso largo e la tenni così quando me ne sono andata ha preso il veleno per topi disse terry si afferrò con le mani le braccia lo hanno portato all'ospedale di santa fe abitavamo allora 15 chilometri fuori città ne hanno salvato la vita ma gli sono saltate le gengive non so come dire si staccavano dai denti e dopo i denti sporgevano come zanne mio dio disse terry resta così un momento poi lasciò le braccia e riprese il bicchiere cosa non farebbe la gente disse laura ormai è fuori gioco disse mel è morto mel mi passò il piattino del limone ne prese uno spicchio lo spremetti nel bicchiere e rigirai i cubetti di ghiaccio col dito adesso viene il peggio disse terry si è sparato in bocca ma gli è andata storta anche quella povero ed disse terry scrollando la testa povero ed un bel niente disse mel era pericoloso mel aveva 45 anni era alto slanciato con i capelli ricci e morbidi la faccia e le braccia erano oscure perché giocava a tennis quando era sobrio i suoi gesti tutti i suoi movimenti erano precisi molto accurati però mi amava davvero mel concedimelo questo disse terry è tutto quello che chiedo non mi amava nel modo in cui mi ami tu non sto dicendo questo ma mi amava questo me lo concedi no che vuoi dire è andata storta anche quella disse io laura si sporsa in avanti col bicchiere mise i gomiti sulla tavola tenendo il bicchiere con entrambe le mani spostò lo sguardo da mel a terry e rimase in attesa con un'espressione smarrita sulla faccia aperta come stupefatta che cose del genere accadessero a gente con cui si era in amicizia che cosa gli è andato storto quando si è ucciso disse io ti racconto com'è successo disse mel ha preso questa calibro 22 che aveva comprato per minacciare terry e me oh dico sul serio quello minacciava continuamente avreste dovuto vedere come vivevamo quei giorni come fuggiaschi io stesso sono arrivato a comprarmi una pistola si credereste un tipo come me eppure l'ho fatto ne ho comprata una per legittima difesa e la tenevo nel cassetto del cruscotto certe volte dovevo uscire nel cuore della notte per andare all'ospedale capite terry e io non eravamo sposati allora e la mia prima moglie aveva la casa i bambini il cane tutto e terry e io vivevamo qui in questo appartamento qualche volta come dico ricevevo una chiamata nel cuore della notte e dovevo andare in ospedale alle due o alle tre del mattino fuori nel parcheggio era buio e prima ancora di arrivare alla macchina ero in un bagno di sudore che ne sapevo poteva sbucare fuori dai cespugli o da dietro una macchina e cominciare a sparare voglio dire quello era pazzo era capace di mettere una bomba qualsiasi cosa chiamava la mia segreteria telefonica a tutte le ore e diceva che aveva bisogno di parlare col dottore e quando io lo richiamavo diceva figlio di puttana ai giorni contati cose del genere c'era davvero paura ve lo garantisco eppure mi fa pena disse terry è come un incubo disse laura ma che cosa è successo esattamente dopo che si è sparato laura è segretaria in uno studio legale eravamo conosciuti sul lavoro senza neanche accorgersene ci siamo innamorati lei ha 35 anni tre anni meno di me oltre ad essere innamorati ci piacciamo e stiamo bene insieme è una persona con cui è facile andare d'accordo cos'è successo disse laura mel disse si è sparato in bocca nella sua stanza qualcuno ha sentito lo sparo e l'ha detto al direttore sono entrati con un passepartout hanno visto cos'era accaduto e hanno chiamato un'ambulanza per caso ero presente quando lo hanno portato dentro vivo ma senza più speranza è vissuto tre giorni la testa gli si è gonfiata fino a due volte la grandezza normale non avevo mai visto una cosa simile e spero di non vederla mai più quando l'ha saputo terry è voluto entrare e rimanere con lui su questo abbiamo bistizzato ero del parere che non dovesse vederlo in quello stato lo ero allora e lo sono ancora oggi chi l'ha avuta vinta disse laura ero nella sua stanza quando è morto disse terry non si è mai ripreso ma sono rimasta con lui non aveva nessun altro era pericoloso disse mel se questo lo chiami amore puoi tenertelo era amore disse terry certo agli occhi della maggior parte della gente è anormale ma lui era disposto a morire per questo è morto per questo col cavolo che quello era amore disse mel voglio dire nessuno sa perché lo abbia fatto ho visto un sacco di gente che si è ammalata e credo che nessuno abbia mai saputo perché mel si mise la mano dietro la nuca e inchinò indietro la sedia non mi interessa questo tipo di amore disse se questo è amore puoi tenertelo terry disse avevamo paura mel ha persino fatto testamento e scritto in california a suo fratello che era stato un berretto verde gli ha scritto a chi doveva rivolgersi se gli fosse successo qualcosa terry beve un sorso disse ma mel ha ragione vivevamo come fuggiaschi avevamo paura mel certamente non è vero tesoro a un certo punto ha persino chiamato la polizia ma non sono stati di nessun aiuto hanno detto che non potevano muoversi finché ed non avesse realmente fatto qualcosa non è da ridere disse terry si versò nel bicchiere il gin rimasto e scrollò la bottiglia mel si alzò da tavola andò verso l'armadio e tiro giù un'altra bottiglia beh nicché io sappiamo cos'è l'amore disse laura per noi intendo disse laura mi sfiorò il ginocchio tocca a te dir qualcosa adesso disse laura volgendo il suo sorriso verso di me per tutta risposta le presi la mano e la portai alle labbra fece una grande esibizione del mio baciamano erano tutti divertiti siamo fortunati dissi voi due disse terry piantatela adesso mi fate venire la nausea siete ancora in luna di miele per dio ancora troppo presto per cantare vittoria aspettate da quanto siete insieme cos'è un anno più di un anno quasi un anno e mezzo disse laura tutta rossa e sorridente allora disse terry aspettate un po teneva in mano il bicchiere e fissava laura sto solo scherzando disse terry mel aprì il gin e fece il giro del tavolo con la bottiglia ecco qua ragazzi disse facciamo un brindisi voglio proporre un brindisi un brindisi all'amore al vero amore disse mel si brindò all'amore dicemmo in coro fuori in cortile un cane prese ad abbaiare le foglie del pioppo che si protendevano oltre la finestra battevano leggere contro il vetro il sole del pomeriggio era come una presenza in quella stanza la luce ampia del benessere dell'abbondanza avremmo potuto essere in un qualsiasi luogo un luogo incantato alzammo di nuovo i bicchieri sorridendoci a vicenda come bambini d'accordo su qualcosa di proibito vi dirò io cos'è il vero amore disse mel voglio dire ve ne darò un buon esempio e voi potrete trarre le vostre conclusioni si versò dell'altro gin aggiunse un cubetto di gaccio una fettina di limone noi restammo in attesa sorseggiando il nostro gin laura ed io ci toccammo le ginocchia un'altra volta le mise una mano sulla coscia calda e ve la lasciai che cosa ne sappiamo noi veramente dell'amore disse mel a me sembra che siamo soltanto dei principianti in amore diciamo di amarci e ci amiamo non ne dubito io amo terry e terry ama me e voi due ragazzi vi amate anche voi sapete di che tipo di amore sto parlando adesso amore fisico quell'impulso che attira verso qualcuno in particolare e anche amore per l'altro essere la sua essenza per così dire l'amore carnale beh chiamate l'amore sentimentale l'attenzione quotidiana per l'altro ma a volte è per mi è molto difficile spiegare come ho potuto amare anche la mia prima moglie eppure l'ho amata so che l'ho amata quindi immagino di essere come terry in questo terry e dead si pensa su e poi proseguì c'è stato un momento in cui pensavo di amare la mia prima moglie più della mia vita stessa ma ora la odio con tutte le mie forze davvero come ve lo spiegate che fine ha fatto quell'amore vorrei proprio saperlo che fine ha fatto vorrei che qualcuno me lo spiegasse e poi c'è ed d'accordo siamo tornati ad ed ama terry al punto che cerca di ucciderla e finisce con l'uccidere se stesso mel si fermò e prese un sorso dal bicchiere voi due siete insieme da 18 mesi e vi amate basta guardarvi raggianti d'amore ma tutti e due avete amato altre persone prima di incontrarvi siete stati sposati tutti e due proprio come noi e probabilmente avete amato altre persone ancora prima terry ed io siamo insieme da cinque anni sposati da quattro e la cosa tremenda la cosa tremenda è ma anche la cosa buona l'ancora di salvezza si può dire è che se è successo qualcosa a uno di noi perdonatemi se dico così ma se succede qualcosa a uno di noi domani penso che l'altro l'altra persona si tormenterebbe per un po no ma poi quello dei due che è sopravvissuto tornerebbe ad amare di nuovo si troverebbe abbastanza presto qualcun altro tutto questo tutto questo amore di cui stiamo parlando sarebbe soltanto un ricordo forse nemmeno un ricordo mi sbaglio sono fuori strada perché voglio che mi correggiate se sbaglio voglio saperlo è chiaro io non so niente e sono il primo ad ammetterlo ma il per amor del cielo disse terry allungo la mano gli preso il polso ti stai ubriacando tesoro sei ubriaco tesoro sto solo parlando disse mel va bene non ho bisogno di essere ubriaco per dire quello che penso voglio dire stiamo tutti solo parlando no disse mel e puntò lo sguardo su di lei amore non sto criticando disse terry prese il bicchiere non sono di turno oggi disse mel lascia che te lo ricordi non sono di turno disse mel ti vogliamo bene disse laura mel guardò laura e guardò come se non riuscisse ad individuarla come se non fosse la donna che era anch'io ti voglio bene laura disse mel e tu nick voglio bene anche a te sapete una cosa disse mel voi due siete i nostri migliori amici disse mel prese il bicchiere mel disse volevo raccontarvi qualcosa per farvi capire è accaduto qualche mese fa ma continua ancora adesso e dovrebbe farci vergognare di noi stessi quando parliamo come se sapessimo di cosa parliamo quando parliamo d'amore ti prego disse terry non parlare come se fossi ubriaco quando non sei ubriaco chiudi la bocca per una volta in vita tua disse mel ma con molta calma mi fai il favore di tenerla chiusa per un minuto allora come stavo dicendo ci sono questi due vecchi marito e moglie che hanno avuto un incidente sull'autostrada un ragazzo li ha investiti e li ha riedotti in merda e nessuno sarebbe stato disposto a scommettere che se la sarebbe cavata terry guardò noi e poi di nuovo mel sembrava ansiosa ma forse una parola troppo forte mel faceva girare la bottiglia intorno alla tavola quella sera ero di turno disse mel era maggio o forse era giugno terry ed io ci eravamo appena messi a tavola quando ha chiamato l'ospedale era successa questa cosa sull'autostrada un ragazzo ubriaco era andato a infilarsi col furgone del padre dritto dentro un camper con a bordo i vecchi tutti e due sui 75 il ragazzo 18 19 anni più o meno c'è rimasto e è entrato il volante nello sterno i due vecchi erano vivi capite insomma si fa per dire ma avevano di tutto fratture multiple ferite interne emorragie contusioni lacerazioni qualsiasi cosa e commozione cerebrale tutti e due conciati male potete credermi e naturalmente l'età giocava contro direi che lei era conciata peggio di lui aveva la milza in pezzi oltre a tutto il resto tutti e due le rotule rotte ma avevano le cinture di sicurezza ed io solo sa questo gli ha impedito di morire sul colpo gente questo è un annuncio dell'ente prevenzione infortuni disse terry vi parla il dottor melvin r beckins rise terry mel disse certe volte esageri ma ti amo tesoro disse tesoro ti amo disse mel si piegò in avanti sul tavolo terry gli andò incontro a metà strada si baciarono terry ha ragione disse mel rimettendosi seduto mettetevi sempre le cinture ma seriamente erano mal ridotti i vecchietti quando sono arrivato il ragazzo era morto come ho detto era in un angolo steso su una barella ho dato un'occhiata ai vecchi e ho detto all'infermiera del pronto soccorso di mandarmi giù subito un neurologo e un ortopedico e un paio di chirurghi beve un sorso cercherò di farla breve disse allora abbiamo portato i due vecchi in sala operatoria e lavorato come dannati quasi tutta la notte avevano delle riserve incredibili quei due cose che si vedono raramente abbiamo fatto tutto il possibile e verso mattina gli davamo un 50 per cento di probabilità forse a lei un po meno così eccoli ancora vivi la mattina dopo naturalmente li spostiamo al reparto cure intensive dove sgobbano per due settimane migliorando su tutti i monitor e poi li trasferiamo nella loro stanza mel si interruppe ecco qui disse facciamoci fuori questo pessimo gin poi andiamo a cena vi va terry ed io conosciamo un posto nuovo andremo lì in questo posto nuovo che sappiamo ma non ci muoveremo di qui finché non avremo finito questo schifoso gin da quattro soldi terry disse veramente non ci abbiamo mai mangiato ma pare buono da fuori ovviamente mi piace mangiare disse mail se dovessi ricominciare da capo farei il cuoco sapete giusto terry disse mail rise girò il ghiaccio col dito terry lo sa disse terry ve lo può dire ma lasciate che vi dica questo se potessi tornare indietro un'altra volta in un'altra vita un altro tempo e tutto sapete una cosa mi piacerebbe rinascere cavaliere si stava sicuri con tutta quell'armatura addosso non c'era male essere cavaliere prima che arrivassero la polvere da sparo i moschetti e le pistole a mail piacerebbe andare a cavallo e portare una lancia disse terry portare sempre con sé i colori di una donna disse laura o solo una donna disse mail vergogna disse laura terry disse e se invece rinascessi servo della gleba i servi non se la passavano molto bene a quei tempi disse terry i servi non se la sono mai passata bene disse mail ma immagino che anche i cavalieri fossero i vessilli di qualcuno non è così che funzionava c'è da dire che ognuno è sempre il vessillo di qualcun altro è vero o no terry ma quello che mi piaceva dei cavalieri a parte le dame era che avevano quel vestito di corazza e non potevano farsi male tanto facilmente non c'erano macchine a quei tempi giusto e nemmeno ragazzini ubriachi a sfasciarti il culo vassalli disse terry cosa disse mail vassalli disse terry si chiamavano vassalli non vessilli vassalli vessilli disse mail che cazzo di differenza fa si è capito quello che volevo dire va bene disse mail così sono ignorante ho imparato il mio lavoro sono un cardiochirurgo come no ma sono solo un meccanico entro faccio due stronzate aggiungo la roba merda disse mail la modestia non ti si addice disse terry è solo un mediocre a giusta ossa disse io ma qualche volta soffocavano con tutta quell'armatura addosso mail avevano persino degli attacchi di cuore se faceva troppo caldo ed erano stanchi sfiniti ho letto da qualche parte che cadevano da cavallo e non erano più capaci di rialzarsi perché erano troppo stanchi per stare in piedi con tutta quell'armatura addosso venivano calpestati dai loro stessi cavalli a volte è terribile disse mail questa è una cosa terribile nicky immagino che restassero là per terra ad aspettare finché non arrivava qualcuno a farne spezzatino un altro vessillo disse terry giusto disse mail un altro vessillo disse terry giusto disse mail arrivava un altro vessallo e infilzava il bastardo in nome dell'amore o di quel cazzo per cui si battevano a quei tempi le stesse cose per cui ci battiamo oggi disse terry laura disse non è cambiato niente le guance di laura erano ancora accese gli occhi le luccicavano portò il bicchiere alle labbra mel si versò ancora da bere guardò l'etichetta da vicino come se esaminasse una lunga serie di numeri posò la bottiglia sul tavolo lentamente e lentamente tese la mano per prendere l'acqua tonica e allora la vecchia coppia disse laura non hai finito la storia che avevi cominciato laura faceva una gran fatica ad accendersi la sigaretta e si spegnevano continuamente i fiammiferi ora nella stanza la luce era diversa stava cambiando diventava più tenue ma le foglie fuori dalla finestra luccicavano ancora e io contemplai le forme che disegnavano sui vetri e sul ripiano di formica non erano gli stessi disegni naturalmente e allora la vecchia coppia dissi più vecchia ma più saggia disse terry mel le puntò gli occhi in faccia terry disse va avanti con la tua storia tesoro stavo solo scherzando che cosa è successo dopo terry certe volte disse mel per favore mel disse terry non essere sempre così serio amore non sai stare allo scherzo dov'è lo scherzo disse mel teneva in mano il bicchiere e guardava fisso sua moglie cos'è successo disse laura mel puntò gli occhi su laura laura se non avessi terry e se non l'amassi tanto e se nick non fosse il mio migliore amico mi innamorerei di te ti porterei via con me tesoro disse racconta la tua storia disse terry poi andiamo in quel nuovo posto va bene va bene disse mel dove ero rimasto disse fissò la tavola e poi riprese a parlare andavo a trovarli tutti i giorni anche due volte al giorno se ero lì per qualche altra chiamata gesso e bende dalla testa ai piedi tutti e due lo sapete come l'avete visto al cinema erano così proprio come al cinema piccoli fuori per gli occhi fuori per il naso fuori per la bocca e lei oltretutto doveva tenere le gambe appese bene il marito era quello più depresso dei due anche dopo aver saputo che sua moglie ce l'avrebbe fatta era molto depresso non per l'incidente però voglio dire l'incidente era una cosa ma non era tutto mi sono avvicinato al foro della bocca e lui mi ha detto no non era per l'incidente ma perché non la poteva vedere con quei fori per gli occhi diceva che era questo che lo faceva star più male ve lo immaginate vi sto dicendo che il cuore di quest'uomo si stava spezzando perché non poteva girare la sua stramaledetta testa e vedere la sua stramaledetta moglie mel volse lo sguardo intorno alla tavola e scosse la testa per quello che stava per dire insomma quel vecchio rimbambito stava morendo solo perché non riusciva a vedere quel suo cazzo di moglie tutti guardammo mel capite cosa sto dicendo disse forse a quel punto eravamo tutti un po ubriachi so che era difficile mantenere le cose a fuoco la luce svaniva dalla stanza ritirandosi attraverso la finestra da cui era entrata tuttavia nessuno fece il gesto di alzarsi per accendere la lampada sopra la tavola sentite disse mel finiamoci questo gin di merda ce n'è per un altro giro completo poi andiamo a mangiare andiamo in quel posto nuovo è depresso disse terry mel perché non prendi una pillola mel scosse la testa ho preso tutto quello che c'era da prendere tutti abbiamo bisogno di una pillola ogni tanto disse io certa gente quel bisogno ce l'ha dalla nascita disse terry grattava col dito qualcosa sulla tavola poi smise credo che telefonerò ai bambini disse mel niente in contrario telefono ai bambini disse terry disse e se risponde mariori voi due ci avete mai sentito sull'argomento mariori tesoro sai che non vuoi parlare con mariori ti farà sentire anche peggio non voglio parlare con mariori disse mel ma voglio parlare coi bambini non passa giorno senza che mel dica che spera che lei si riposi oppure che muoia disse terry soprattutto per una cosa disse terry ci sta mandando rovina mel dice che è solo per fare dispetto a lui che non si riposa ha un uomo che vive con lei e i bambini così mel mantiene anche lui è allergica alle api disse mel quando non prego perché si riposi prego che sia punta a morte per uno sciame di schifosissime api vergogna disse laura disse mel trasformando le dita in api e facendole ronzare alla gola di terry poi lasciò cadere le mani lungo i fianchi è perfida disse mel qualche volta penso che andrò da lei vestito da apicultore se li avete in mente con quel cappello che sembra un elmetto e quello schermo che viene giù sulla faccia i guantoni e il cappotto imbottito busserò alla porta e libererò in casa uno sciame d'api ma prima mi accerterò che i ragazzi siano fuori ovviamente accavallò le gambe e la cosa sembra richiedergli molto tempo poi posò entrambi i piedi per terra e si piegò in avanti i gomiti sul tavolo il mento nel cavo delle mani forse non chiamerò i bambini dopo tutto forse non era poi un'idea così grandiosa forse andremo solo a mangiare che ne dite per me va bene dissi mangiare o non mangiare o continuare a bere o uscire e andare incontro al tramonto che cosa significa tesoro disse laura significa quello che ho detto dissi significa che potrai semplicemente andare senza fermarmi ecco cosa significa io mangerai volentieri qualcosa disse laura credo di non aver mai avuto tanta fame in vita mia non c'è qualcosa da sgranocchiare tiro fuori del formaggio e dei cracker disse terry ma terry restò seduta dove era non si alzò a prendere proprio niente ma rovesciò al bicchiere tutto il contenuto si sparse sul tavolo il ging è partito disse mail terry disse e adesso sentivo il cuore che mi batteva sentivo il battito del cuore di ognuno sentivo il rumore umano che facevamo tutti lì seduti senza muoverci nemmeno quando la stanza diventò tutta buia a Raymond Carver Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Aveva la parola il mio amico Mel McJeans lui è un cardiologo e qualche volta questo gliene dà il diritto eravamo seduti tutti e quattro attorno al tavolo della cucina e bevevamo gin dalla grande finestra dietro il lavello la luce del sole inondava la cucina oltre me e Mel c'erano la sua seconda moglie Teresa noi la chiamiamo Terry e mia moglie Laura abitavamo ad Albuquerque all'epoca ma venivamo tutti da qualche altra parte in mezzo al tavolo c'era un secchiello pieno di ghiaccio la bottiglia del gin e quella dell'acqua tonica facevano continuamente il giro e non so come ci eravamo messi a parlare d'amore secondo Mel il vero amore non poteva essere nient'altro che l'amore spirituale raccontò di avere passato cinque anni in seminario prima di lasciar perdere e di iscriversi alla facoltà di medicina diceva di considerare ancora quegli anni passati in seminario come degli anni importanti della sua vita Terry disse che l'uomo con cui viveva prima di mettersi con Mel l'amava tanto che aveva tentato di ammazzarla poi disse una sera mi ha riempito di botte mi ha trascinato per tutto il soggiorno per le caviglie continuava a ripetere ti amo ti amo stronza e a trascinarmi in giro per il soggiorno sbattevo la testa dappertutto Terry fece il giro del tavolo con lo sguardo che te ne fai di un amore del genere era una donna tuta ossa con un bel viso occhi scuri e capelli castani che le scendevano lunghi e sciolti sulla schiena le piacevano le collanine di turchesi e gli orecchini pendenti ma dai dio buono non dire fesserie quello non è mica amore lo sai benissimo disse Mel non saprei come definirlo ma certamente non si può chiamarlo amore di quel che ti pare ma secondo me lo era disse Terry magari a te sembra una follia eppure è vero non siamo mica tutti uguali Mel va bene certe volte si comportava da matto d'accordo però mi amava a modo suo ma mi amava c'era dell'amore anche lì Mel non puoi dire che non c'era Mel sospirò prese in mano il bicchiere e guardò me e Laura quel uomo mi è minacciato di morte disse Mel votò il bicchiere e allungò la mano per prendere la bottiglia del gin Terry è una romanticona appartiene alla scuola del prendimi a calci così so che mi ami ma dai Terry tesoro adesso non fare quella faccia Mel allungò il braccio sopra il tavolo e sfiorò la guancia di Terry con le dita sorridendole adesso vuoi metterci una pezza disse Terry ma quale pezza chiese Mel non c'è niente su cui mettere una pezza lo so bene come stanno le cose tutto qua ma come mai siamo finiti a parlare di questa cosa disse Terry sollevò il bicchiere e ne prese un sorso Mel alla fissa dell'amore aggiunse non è vero tesoro sorrise e io pensai che la cosa sarebbe finita lì è che non definirai amore il comportamento di Ed ho solo detto questo tesoro disse Mel e voi che ne dite ragazzi aggiunse rivolto a Laura e me secondo voi si tratta di amore non lo chiedere a me dissi io non l'ho mai conosciuto il tizio ne ho sentito solo parlare di sfuggita non saprei dirlo bisognerebbe conoscere i dettagli comunque mi pare di capire che quello che vuoi dire è che l'amore è un assoluto Mel disse l'amore che intendo io lo è il tipo di amore di cui parlo io non te ne vai incerto in giro a cercare di ammazzare la gente Laura disse non so niente di Ed né della situazione e poi come si fa a giudicare la situazione degli altri e sfiorai il dorso della mano lei mi lanciò un rapido sorriso le presi la mano nella mia era calda le unghie smaltate ben curate le circondai l'ampio polso con le dita e lo strinse l'ampio polso 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 abbiamo Quando me ne sono andata, si è bevuto il veleno per topi, disse Terry. Si strinse le braccia con le mani. L'hanno portato all'ospedale di Santa Fe. Abitavamo lì, all'epoca, una decina di miglia fuori città. Sono riusciti a salvarlo. Ma gli sono partite le gengive. Cioè, praticamente, gli si sono ritirati dai denti. Da allora in poi, più che denti, sembravano zanne. Dio buono, esclamò Terry. Rimase un attimo così. Poi mollò la presa sulle braccia e prese il bicchiere. Certo che la gente ne fa di cose strane, disse Laura. Ormai è uscito di scena, disse Mel. È morto. Mi passò il piattino con le fette di lime. Ne presi una, la strizzai nel mio bicchiere e agitai un po' i cubetti di ghiaccio con un dito. Al peggio non c'è mai fine, riprese Terry. Si è sparato in bocca. Ma è riuscito a combinare un pasticcio anche in quello, povero Ed, disse, scuotendo la testa. Povero Ed, un cavolo, disse Mel. Era un tipo pericoloso. Mel aveva 45 anni. Era alto e snello, con capelli ricci e soffici. Aveva volto e braccia abbronzati perché giocava a tennis. Quando era sobrio, i suoi gesti, ogni suo movimento, erano attenti e precisi. Però mi voleva bene, no? Mel, almeno questo lo ammetterai, disse Terry. È l'unica cosa che ti chiedo. Certo, non mi amava come mi ami tu. Non dico questo. Però mi amava. L'ammetti o no? Come sarebbe a dire? Ha combinato un pasticcio, chiesi io. Laura si chinò in avanti col suo bicchiere. Poggiò i gomiti sul tavolo e lo strisse con entrambe le mani. Lanciò sguardi sia a Terry che a Mel e restò un po' in attesa, con un'espressione perplessa sulla faccia aperta, come fosse stupefatta che cose del genere potessero succedere a gente che conosceva bene. Cioè, come ha fatto a combinare un pasticcio quando si è ammazzato? Dico io. Adesso te lo dico io. Cos'è successo? Rispose Mel. Ha preso la calibro 22 che sarà comprata per minacciare me e Terry. Oh, lo dico sul serio, ci minacciava sempre. Avreste dovuto vedere come ci toccava vivere a quei tempi. Come fuggiaschi. Mi sono comprato una pistola anch'io. Ci credete? Uno come me. Eppure è vero. L'ho comprata per autodifesa e la tenevo nel cassetto del cruscotto. Certe volte dovevo uscire di casa nel cuore della notte. Per correre in ospedale, no? Terry e io non eravamo ancora sposati all'epoca e la mia prima moglie si era presa la casa e i ragazzi, perfino il cane, tutto insomma, e Terry e io vivevamo in un appartamento. A volte, come vi dicevo, mi telefonavano nel cuore della notte e dovevo correre in ospedale alle due o alle tre del mattino. Era buio nel parcheggio e mi veniva la sudarella prima ancora di arrivare alla macchina. Non si sa mai. Quello poteva sbucare dai cespugli o da dietro un'altra macchina e iniziare a sparare. Voglio dire, era amato sul serio. Era anche capace di mettere una bomba, qualsiasi cosa. Mi lasciava dei messaggi in segreteria a tutte le ore dicendo che aveva bisogno di parlare con il dottore e quando gli ritelefonavo mi diceva brutto figlio di puttana, hai giorni contati. Insomma, cosette del genere. Avevo una gran fifa, vi giuro. Sì, ma a me. Ancora dispiace per lui, disse Terry. Un vero incubo, disse Laura. Ma cos'è successo esattamente dopo che si è sparato? Laura fa la segretaria a un avvocato. Ci eravamo incontrati per lavoro. Prima che se ne rendessimo conto ci eravamo innamorati. A 35 anni. Tre meno di me. Oltre a essere molto innamorati, ci piacciamo un sacco e stiamo bene insieme. È una persona con cui ci si sente a proprio agio. Insomma, cos'è successo? Chiese Laura. Mael, disse, si è sparato in bocca, in camera sua. Qualcuno ha sentito lo sparo e ha avvertito il portiere. Sono entrati con un passepartout, hanno visto quello che era successo e hanno chiamato un'ambulanza. Per caso era in ospedale quando l'hanno ricoverato. Ancora vivo, ma senza speranza. Ha resistito tre giorni. La testa gli si è gonfiata del doppio rispetto a una testa normale. Mai visto una cosa del genere e spero di non vederla mai più. Terry voleva correre al suo capezzale quando l'ha saputo. Abbiamo perfino litigato. Secondo me non doveva vederlo in quello stato. Secondo me non doveva proprio vederlo in quello stato. E ne sono ancora convinto. Chi l'ha avuta vinta? Chiese Laura. Ero nella sua stanza quando è morto, disse Terry. Non ha mai ripreso conoscenza, però sono rimasta lì, a vegliarlo. Non aveva nessun altro al mondo. Era un tipo pericoloso, insiste Mel. Se vuoi dire che era amore, accomodati pure. Era amore, disse Terry. Certo, agli occhi della gente era una cosa fuori del normale, ma lui era disposto a morirci. E in effetti c'è morto. Beh, come è vero l'inferno. Io non lo chiamerei amore, disse Mel. Mel. Cioè, nessuno lo sa veramente perché l'ha fatto. I suicidi ne ho visti tanti. E non saprei proprio dire se si riesce mai a capire la vera ragione per cui lo fanno. Mel si mise le mani dietro la nuca e inclinò indietro la sedia. Non saprei che farvene di quel genere di amore lì, disse Mel. Se quello è amore, accomodati pure. Terry disse. Avevamo paura. Mel ha fatto addirittura testamento e ha scritto al fratello in California che era stato un basco verde. Gli ha detto chi andare a cercare se gli fosse successo qualche cosa. Terry beve ancora. Poi disse. Però Mel ha ragione. Vivevamo come fuggiaschi. Eravamo spaventati. Almeno Mel lo era, vero, tesoro? A un certo punto ho perfino chiamato la polizia. Ma non è che siano stati granché d'aiuto. Dicevano che non potevano far niente finché Ed non avesse fatto qualcosa di concreto. Non è buffo? Chiese Terry. Si versò l'ultima goccia di gin e agitò la bottiglia. Mel si alzò dal tavolo e andò verso la credenza. Tirò giù un'altra bottiglia. Beh, io e Nick lo sappiamo che cos'è l'amore disse Laura almeno per noi disse Mi toccò il ginocchio con il suo Adesso tocca a te dire qualcosa disse rivolgendo verso me il suo sorriso Per tutta risposta le presi la mano e me la portai alle labbra Il mio baciamano fece molta scena Erano tutti divertiti Siamo fortunati dissi Ragazzacci disse Terry Smettetela subito mi fate venire la nausea Siete ancora in luna di miele per l'amor di Dio tubate come colombe per la miseria Aspettate e vedrete Quanto tempo è che state insieme? Vediamo Cos'è? Un anno? Un po' più di un anno? Andiamo per l'anno e mezzo disse Laura rossando felice Ah beh disse Terry aspettate un altro po' Fissò Laura tenendo stretto il proprio bicchiere Naturalmente scherzo aggiunse Ma ella aprì l'altra bottiglia e fece il giro del tavolo versando da bere Coraggio ragazzi disse Facciamo un brindisi Propongo un brindisi Un brindisi all'amore al vero amore Facciamo tintinnare i bicchieri All'amore ripetemmo tutti Un brindisi all'amore Un brindisi all'amore Un brindisi all'amore In un giardino uno dei cani si mise ad abbaiare. Le foglie del piapo tremulo vicino alla finestra dichiettavano contro i vetri. Il sole pomeridiano era una specie di presenza nella stanza, la luce spaziosa dell'agio e della generosità. Potevamo essere in qualsiasi posto, in un posto incantato. Alzamo ancora i bicchieri e ci sorridemmo a vicenda come bambini che avevano deciso di fare qualcosa di proibito. «Ve lo dico io cos'è il vero amore», disse Mel. «Cioè, ve ne darò un buon esempio». «Poi ne potete trarre le conclusioni che volete». Si versò altro G nel bicchiere. Ci aggiunse un cubetto di ghiaccio e uno spicchio di lim. «Noi rimanemmo in attesa, forsaggiando dai nostri bicchieri. Laura e io ci toccammo ancora con le ginocchia, le misi una mano sulla coscia calda e la tenni lì». «In effetti, che ne sappiamo noi dell'amore?», disse Mel. «Secondo me siamo tutti principianti in fatto di amore». «Diciamo di amarci, e magari è vero, non ne dubito. Io amo Terry e Terry ama me. Anche voi due vi amate. Sapete di che tipo di amore parlo, no? L'amore fisico, quell'impulso che vi spinge verso qualcuno di speciale e anche l'amore per l'essere dell'altro o dell'altra, per la sua essenza, per così dire. L'amore carnale, e beh, chiamiamolo pure con il suo nome, l'amore sentimentale, la cura e l'affetto quotidiano per l'altra persona. Ma a volte ho grosse difficoltà a fare i conti con il fatto che devo aver amato anche la mia prima moglie. Però è vero, lo so che è vero. Perciò immagino che rispetto a questo sto esattamente nella stessa posizione di Terry. Terry, di Terry e Dead, voglio dire, ci pensò un po'. Quindi continuò. C'è stato un periodo in cui credevo di amare la mia prima moglie più della mia vita. Invece ora la detesto con tutto il cuore. Davvero. Voi come lo spiegate? Che cosa è successo a quell'amore? Vorrei tanto saperlo. Che fine ha fatto? Vorrei tanto che qualcuno me lo dicesse. E poi c'è Ed. Eh già, siamo tornati a Ed. Insomma, Ed ama Terry al punto che cerca di ammazzarla e poi finisce per ammazzarsi. Mel smise di parlare e mandò giù un sorso di gin. Voi altri siete stati insieme un anno e mezzo e vi volete bene. Si vede. Trasparei in tutto quello che fate. Ma tutti e due amavate altri prima che vi incontraste. Siete entrambi stati sposati prima, proprio come noi. E probabilmente avete amato anche altre persone prima di sposarvi. Terry e io sono cinque anni che stiamo insieme e siamo sposati da quattro. E la cosa tremenda, veramente tremenda, ma anche buona, la grazia salvifica, la potremmo definire, è che se a uno di noi succedesse qualcosa, scusatemi se lo dico, insomma, se succedesse qualcosa a uno di noi, mettiamo domani, secondo me l'altro, l'altra persona soffrirebbe per un po', sapete, ma poi il supersti ne uscerebbe e amerebbe di nuovo e si troverebbe presto un'altra persona da amare. E tutto questo, tutto questo amore di cui stiamo parlando diventerebbe solo un ricordo, forse neanche quello. Sbaglio? Sono fuori strada. Perché se sbaglio vorrei tanto che mi rimettesse sulla buona strada. Voglio dire, non ne so niente io e sono il primo ad ammetterlo. Per l'amor di Dio, Mel, disse Terry allungando la mano e afferrandogli il polso. Che c'è? Sei ubriaco, eh, tesoro? Sei un po' ubriaco. Ma tesoro, stiamo solo parlando, disse Mel, va bene? Non devo mica per forza essere ubriaco per dire quello che penso. Cioè, siamo qui a parlare, giusto? La guardò intensamente. Caro, non ti sto mica criticando, disse Terry. Prese il bicchiere. Oggi sono di riposo, disse Mel. Voglio solo ricordartelo. Oggi sono di riposo, ripetè. Mel, ti vogliamo tutti bene, disse Laura. Mel squadrò Laura. La squadrò come se non riuscisse a metterla a fuoco, come se non fosse la donna che era. Anch'io ti voglio bene, Laura, disse Mel. E anche a te, Nick. Voglio bene anche a te. Sapete una cosa? Disse Mel. Ragazzi, voi siete i nostri amici. Prese il bicchiere. La squadrò? La squadrò? La squadrò? La squadrò? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E dai, su, intervene Terry, non parlare come un ubriaco che non lo sei. Vuoi stare zitta una buona volta in vita tua? Disse Mel con molta calma. Mi fai il favore di stare zitta un momento? Allora, come dicevo, c'è questa coppia di vecchietti che ha avuto un brutto incidente sull'interstatale. Un ragazzo li ha presi in pieno e li ha ridotti uno schifo, tanto che nessuno gli dava molte probabilità di cavarsela. Terry ci lanciò un'occhiata e poi tornò a guardare Mel. Mel sembrava un po' in ansia, ma forse ansia è una parola troppo forte. Mel intanto faceva fare alla bottiglia il giro del tavolo. Quella sera ero di guardia io, rispose Mel. Era maggio, forse giugno. Terry e io ci eravamo appena seduti a tavola, la sera, quando mi hanno chiamato all'ospedale. Era successa questa cosa sull'interstatale. Un ragazzotto ubriaco, con il furgoncino del padre, aveva sfondato la roulotte dove c'erano questi due vecchietti. Erano sui 75. Il ragazzo, 18-19 anni, è arrivato in ospedale e ve l'è morto. Il volante gli aveva sfondato allo sterno. I vecchietti, invece, erano vivi, capite? A mala pena, voglio dire. Però, avevano di tutto. Fratture multiple, ferite interne, emorragie, contusioni, lacerazioni. Insomma, il quadro completo e per di più avevano entrambi una bella commozione cerebrale. Erano ridotti proprio male, credetemi. E poi l'età era già un 2-0 contro. A occhi e croce, direi che lei era ridotta peggio di lui. Oltretutto aveva anche la milza spappolata. Tutte e due le rotule fratturate. Però, se erano allacciate le cinture di sicurezza, e Dio solo sa come, la cosa le aveva salvati. Almeno per il momento. Trenton, è il momento della pubblicità progresso del Consiglio Nazionale sulla Sicurezza, annuncio Terry. Vi parla il vostro speaker, il dottor Melvin McGins. Scoppiò a ridere Mel. Aggiunse, certe volte sei proprio buffo. Ma ti voglio bene lo stesso, tesoro. Anch'io, Carla, ti voglio bene, disse Mel. Si sporse sopra il tavolo. Terry gli andò incontro e si baciarono. Comunque Terry ha ragione, risprese Mel, rimettendosi seduto. Allacciatevele le cinture di sicurezza. A parte gli scherzi, insomma, quei vecchietti erano ridotti proprio a pezzi. Per quando sono arrivati in ospedale, il ragazzotto era andato, come ho detto. L'hanno messo in un angolo, sopra una barella. Io ho dato un'occhiata alla coppia di anziani e ho detto all'infermiera del ponto soccorso di chiamare subito un ortopedico, un neurologo e un paio di chirurghi. Prese un sorso dal proprio bicchiere. Cercò di farla breve. Insomma, li portavamo tutti e due in una sala operatoria e ci lavoriamo sopra come matti tutta la notte. Avevano una riserva incredibile quei due. Ogni tanto capita. Insomma, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare verso il mattino e davamo un 50% di probabilità di cavarsela. Magari alla donna un po' di meno. Comunque eccoli lì, al mattino, ancora vivi. Così, va bene, li trasferiamo nell'unità di terapia intensiva e lì tutti e due si sono messi sotto a guarire per due settimane riuscendo a riguadagnare un punto dietro l'altro su tutti gli indici. Perciò alla fine li trasferiamo in una stanza tutta loro. Mel si interruppe. A questo punto, disse, facciamoci un altro goccetto di questo gin da due soldi, così lo finiamo e diamine. Poi usciamo a cena, giusto? Terry e io conosciamo un ristorantino nuovo. Andiamo lì, in questo nuovo posto, che sappiamo noi. Ma non possiamo andarci finché non finiamo questo gin schifoso, comprato da qualche svendita. Terry aggiunse, Veramente non ci abbiamo ancora mai mangiato, però sembra buono, cioè da fuori intendo. A me piace il cibo, disse Mel. Se potessi ricominciare da capo, farai il cuoco, sapete? È vero, Terry? Si mise a ridere. Si gincillò con il ghiaccio nel bicchiere. Terry lo sa bene, disse. Ve lo può dire. Ma fatemi dire un'altra cosa. Se potessi tornare indietro e vivere un'altra vita, in un'epoca diversa e così via, sapete che c'è? Vorrei rinascere il cavaliere. Si era abbastanza sicuri con tutta quell'armatura addosso. Fare il cavaliere era un bel mestiere, finché non hanno inventato la polvere da sparo, i moschetti e le pistole. A me piacerebbe cavalcare un destriero con la lancia in resta, disse Terry. Portare la sciarpa di una dama ovunque vada, disse Laura, o magari direttamente la dama, disse Mel. Vergogna, disse Laura. Poi Terry disse, immaginate un po' se invece rinascessi servo della gleba. Quelli mica se la passavano tanto bene a quei tempi. I servi non se la sono mai passata bene, disse Mel. Comunque, immagino che anche i cavalieri fossero i vascelli di qualcuno. Non era così che funzionava? Che tutti erano vascelli di qualcun altro? Non è giusto, Terry? Ma quello che mi piace di più dei cavalieri, oltre alle loro dame, è che avevano quell'armatura. Sapete, e così non si potevano fare troppo male. Non c'erano macchine in giro a quei tempi, sapete? Nessun ragazzotto ubriaco che arriva e ti spacca il culo. Vassalli, disse Terry. Come? Chiese Mel. Vassalli, ripete Terry. Si dice vassalli? Non, vascelli. Vassalli, vascelli, disse Mel. Ma che cazzo di differenza fa? In ogni caso, hai capito quello che volevo dire? D'accordo. Allora sono ignorante. Che vuoi farci? Quello che dovevo imparare l'ho imparato. Sono un cardiochirurgo. Come no? Però, sono solo un meccanico. Ficco dentro le mani, faccio qualche cazzatina con le dita e rimetto a posto le cose. Cazzo! Esclamò Mel. La modestia non ti si addice, disse Terry. È solo un povero macellaio, disse io. Però, certe volte, ci soffocavano dentro quelle armature. Mel. Gli veniva perfino l'infarto se si arroventavano e loro erano troppo esausti e sfiniti. Non ricordo dove, ma ho letto da qualche parte che quando cadevano da cavallo non riuscivano più ad alzarsi perché erano troppo stanchi e non ce la facevano a rimettersi in piedi con tutta quella ferraglia addosso. A volte, venivano perfino calpestati dai loro stessi cavalli. Ma è terribile, disse Mel. È davvero terribile, Nicky. Immagino che potessero fare altro che rimanere lì, a terra, ad aspettare che qualcuno li infilzasse come uno spiedino. Magari qualche altro vascello, disse Terry. Giusto, disse Mel. Qualche altro vassallo passa di lì e impala il povero bastardo in nome dell'amore o per qualsiasi cazzo di cosa combattessero a quei tempi. Le stesse cose per cui combattiamo oggi, disse Terry. Laura disse, non è cambiato niente. Laura aveva ancora le guance rosse e gli occhi lucidi. Si portò il bicchiere alle labbra. Mel si versò un altro bicchierino, esaminò da vicino l'etichetta della bottiglia come se stesse leggendo una lunga fila di numeri. Poi lentamente mise giù la bottiglia sul tavolo e fece per prendere l'acqua tonica. «Ma che fine hanno fatto i due vecchietti?» chiese Laura. «Non ha ancora finito il racconto». Laura aveva qualche difficoltà ad accendersi la sigaretta. I fiammiferili si spegnevano uno dopo l'altro. La luce del sole che entrava nella cucina era diversa ora. Cambiava. Si faceva più rada. Però le foglie fuori dalla finestra brillavano ancora e io fissavo i disegni che proiettavano sui vetri e sul ripiano di formica. Erano disegni diversi, naturalmente. «Ma che fine hanno fatto i vecchietti?» disse infine. «Più vecchi, ma anche più saggi» disse Terry. Mel la fissò. Terry disse. «Continua pure la tua storia, tesoro. Era solo una battuta. Insomma, che cosa è successo?» «Certe volte, Terry», disse Mel. «E dai, Mel, per favore», disse Terry. «Non essere sempre così serio, amore. Non sai stare allo scherzo». «Ma quale scherzo?» disse Mel. Strinse il bicchiere e guardò severo la moglie. «Che cosa è successo?» disse Laura. Mel fissò lo sguardo su Laura. Poi disse. «Laura, se io non avessi Terry e se non amassi tanto e se Nick non fosse il mio miglior amico, mi innamorerei di te e ti porterai via, tesoro. Racconta la tua storia», disse Terry. «Così poi andiamo in quel ristorantino nuovo. Va bene?» «D'accordo», disse Mel. «Dove ero rimasto?» si concentrò un attimo guardando il tavolo e poi ricominciò a raccontare. passavo a trovarli tutti i giorni, qualche volta anche due volte al giorno, se ero da quelle parti per qualche altra visita, bendati e ingessati da capo a piedi, tutti e due. Potete immaginarveli. L'avrete vista al cinema la scena, no? Beh, erano esattamente come, così, come in un film. Due buchetti per gli occhi, per le narici e uno per la bocca. E lei oltretutto aveva anche tutte e due le gambe in trazione. Beh, il marito è rimasto depresso per un sacco di tempo, anche quando lo informamo che la moglie, se la sarebbe cavata, continuò a rimanere depresso. Ma mica per l'incidente. Cioè, l'incidente era una cosa, ma non era tutto. Mi avvicinavo al buco che aveva per la bocca, sapete, e lui mi diceva, no, non era solo per via dell'incidente, ma perché non riusciva a vederla attraverso i buchetti per gli occhi. Ha detto che era quello che lo faceva sentire così giù. Ma ci pensate? Ve lo giuro, quello si stava facendo venire il crepacuore solo perché non poteva girare quegli accidenti di testa e vedere quell'accidenti di moglie. Mel fece il giro del tavolo con gli occhi e poi scosse la testa per quello che stava per dire. Voglio dire, quel vecchio coglione stava morendo solo perché non riusciva a vedere quel cazzo di moglie. Guardammo tutti Mel. Capite? quello che voglio dire chiese. Magari a quel punto eravamo tutti un po' brilli. So che cominciava a essere difficile mettere a fuoco le cose. La luce si prosciugava dalla stanza uscendo dalla stessa finestra da cui era entrata. eppure nessuno faceva la mossa di alzarsi dal tavolo per andare ad accendere la plafoniera. Sentite, disse Mel, finiamo questo cazzo di gin. Ce n'è rimasto abbastanza per un bicchierino a testa. Poi andiamo a mangiare. Andiamo in quel nuovo ristorante. «E' un po' depresso», disse Terry. «Mel, perché non prendi una delle tue pillole?» Mel scosse la testa. «Ho preso tutto quello che potevo prendere. Tutti abbiamo bisogno di una pillola di tanto in tanto», disse io. «C'è gente che ci nasce con il bisogno di prenderle», disse Terry. Strofinava con il dito qualcosa sulla superficie del tavolo. Poi smise di strofinare. «Mi sa che ho voglia di chiamare i ragazzi al telefono», disse Mel. «C'è qualcuno che ha obiezioni?» «Chiamo i miei figli». Terry disse. «E se ti risponde Mario Lee?» «Ragazzi, ci avete mai sentito discutere di Mario Lee?» «Tesoro, lo sai che non vuoi parlare con Mario Lee? Ti farà sentire ancora peggio». «Non ho voglia di parlare con Mario Lee», disse Mel. «Ma voglio di parlare con i miei figli». Non passa giorno che Mel non dica quanto vorrebbe che lei si risposasse «Oppure crepasse», disse Terry. «Tanto per cominciare, ti sta mandando in rovina». Mel dice che non si risposa solo per fargli rispetto. Ha un amico che vive con lei e con i ragazzi. Così, praticamente, Mel mantiene anche lui. «E' allergica alle api», disse Mel. «Quando non prego perché si risposi, prego che si faccia pungere a morte da uno sciame di cazzutissime api». «Vergognati», disse Laura. «Shhh», cominciò a fare Mel, trasformando le dita in api e facendole ronzare intorno alla gola di Laura. Poi lasciò cadere la mano lungo i fianchi. «È una donna malvagia», disse Mel. Certe volte penso di andare lassù vestito da apicultore Sapete, con quel copricapo che sembra un casco con la piastra che scende sugli occhi I guantoni e la gioca imbottita Busserò alla porta e librerò uno sciami di ape dentro la casa Ma certo prima mi assicurerei che i ragazzi non ci sono Accavalò le gambe Parve metterci un sacco di tempo Poi rimise tutti e due i piedi sul pavimento e si chinò in avanti Con i gomiti sul tavolo e il mento appoggiato sui palmi delle mani Magari non li chiamo più i ragazzi dopo tutto Magari non è una buona idea Magari ce ne andiamo solo a mangiare Che me ne pare A me sta bene, dissi io Mangiare o non mangiare Oppure continuare a bere Sono pronto ad affrontare il tramonto anche subito Scusa tesoro ma Che vuoi dire? Chiese Laura Voglio dire esattamente quello che ho detto Risposi io Voglio dire che potrei andare avanti così Ecco Che voglio dire Io veramente un po' di fame ce l'avrei Disse Laura Mi sa anzi Che non ho mai avuto tanta fame in vita mia Non c'è niente da sgranocchiare Adesso prendo un po' di formaggio e salatini Disse Terry Però Terry non si mosse Rimase seduta E non si alzò a prendere un bel niente Mer lo pescò al bicchiere Tutto il contenuto si sparse sul tavolo Il gin è partito Disse Mel Terry disse E adesso Sentivo il cuore che mi batteva Sentivo il battito del cuore di ognuno Sentivo il rumore umano Che facevamo tutti Lì Seduti Senza muoverci Nemmeno quando la stanza diventò tutta buia Non si alzò a prendere un po' di ognuno Non si alzò a prendere un po' di ognuno Non si alzò a prendere un po' di ognuno Sotto